Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di martedì 17 gennaio. Sono le 22.38 appena scattate e questa è la seconda parte dell'anteprima, e quindi la reale analisi su Bitcoin, di cui stavamo già parlando questa sera. Non vi prometto che continuerò con questa formula, ok? Perché nella realtà dei fatti sono abbastanza cotto e siamo al quarto video in una giornata. Sono troppi, due sono più che bastanti, uno sugli indici o due sugli indici e se c'è tempo anche per le criptovalute, oppure uno sugli indici e uno sulle criptovalute come al solito. Ma di più non mi chiedete perché se no, a parte lavorare dalle 8 alle 24, non ho voglia di fare straordinari. Allora, a che punto eravamo arrivati? Eravamo arrivati qui, avevo segnalato che c'era una divergenza rialzista che ci ha portato a tornare verso l'alto e che si poteva continuare ad andare su. Fino a quanto tempo? Qui abbiamo avuto soltanto 23 barre e quindi sono sempre un po' perplesso quando vedo determinate cose. Possiamo arrivare fino alla 44esima barre, ovvero a questa mattina alle 6 e 15. Cercare di trovare un top e abbiamo bisogno di un certo tipo di candela, visto il movimento che vi ho descritto e a cui arriviamo però soltanto perché la precedente centratura più corretta c'era uno swing e qui invece siamo andati oltre il tempo limite? Ok, qui in sostanza ci siamo arrivati per esclusione ed è un lavoro che non è bello da fare quando si fa trading. Perché? Perché significa che è un periodo estremamente complesso. Ve l'ho fatto vedere sugli indici, sul MIB, sul DAX, su tutto quello che volete. Potete confrontarvi con trader capaci, vi diranno la stessa identica cosa, solo che a me non interessano tra virgolette le scuse. A me piacerebbe poter avere una centratura in cui c'è sempre uno swing che dà una conferma, c'è sempre il tempo e tutto funziona perfettamente. Quando ciò non succede sono sempre in allerta e come detto mi fermo ed eventualmente faccio solo e esclusivamente trade. Uno con la tecnica principale che significa che ci si è vincolati a rialzo e ribasso oppure non faccio niente, assolutamente niente, perché so che paga più di mettersi a fare qualcosa. Queste sono cose che a una persona giovane che appena iniziato con il trading non piace sentire. Mi piace sentire che si fa trading tutti i giorni, 30 operazioni al giorno, troppo numeri uno, siamo a... Però bisogna vedere cosa rimane del conto corrente, se si fanno troppe operazioni, soprattutto come avete visto in un periodo di precedente lateralità che dava candele che erano ridicole, con un trading range di 150-200 dollari complessivi di tutta la giornata tra massimo e minimo. Quindi chi è più esperto lo sa già, chi non è esperto faccia esperienza e magari ogni tanto si fede di chi ne ha un po' di più di esperienza. Siamo arrivati comunque all'undicesima candela, siamo alla 1, 2, terza candela che assomiglia abbastanza o a un martello, che può dirci discesa, ma la posizione non è giusta, dovrebbe essere più in alto. Seconda è una sorta di, non chiamiamola doji, ma quasi una candela di pausa e anche questa fatta. Vedremo come chiuderà questa, che di nuovo sembra quasi una doji, come di consueto, anche se è un po' di corpo, sappiamo che le doji perfette le troviamo solo esclusivamente nei libri. Vedete che anche questa, cioè ce ne sono tante, ok? Però questa assomiglia per ora alle 22.42 a una doji. Dovremmo vedere come chiuderà. Ci interessa il colore? Assolutamente no. Perché? Perché ragionando per esclusione, come detto, che è una cosa abbastanza avvilente quando succede perché si sta tirando tanto la corda a salire, quindi può arrivare la discesa, come ci siamo detti, ma solo se sarà forte, fortissima, solo se questo sarà il mensile che chiuderà tutto l'annuale. Altrimenti, come vi ho già detto, ve l'ho già disegnato anche ieri, si potrebbe scendere, far partire il quarto T più 2 e poi soltanto dopo vincolarsi al ribasso e scendere qui sotto. Può fare in qualsiasi modo, può fare anche così. Candela di domani, così, fine. Tipo queste. Il tempo di inverso è capiente, ok? Qui abbiamo cercato di vedere se era possibile che partisse, ma non c'è uno swing. Anche un altro settimanale inverso che si sarebbe già vincolato a salire per altri tre giorni, perché avrebbe fatto uno, due, tre giorni, ma senza swing, come vi dicevo, senza una conferma, discesa, nessuna violazione di swing. C'è una candela verde che swing abbiamo violato, nessuno. Senza una conferma di swing, io qui non posso dire che è partito un T settimanale soltanto per il tempo, perché prima della violazione siamo rimasti sotto quel massimo lì per oltre 48 barre, 24 più 24. Sì, è una possibilità, è esattamente come una possibilità, ma lo si capisce solo a posteriori, che questa sia la vera partenza del quarto settimanale inverso, che in realtà da qui, come settimanale inverso, aveva tutte le condizioni per la sua partenza, altrove no, manca la seconda condizione. Siamo obbligati a tenerne conto, perché purtroppo il tempo va esaurendosi qua di inverso. Per cui sì, lo lasci in arancione, qui potrebbe essere già partito un T inverso già completamente vincolato a continuare a salire, per ora non c'è nessuna indicazione che si possa andare a scendere, perché continuiamo a essere sopra la media mobile a 50 periodi, non c'è niente di discesa, non si viola nessun minimo. Per cui sono obbligato a tenere in considerazione questa. Certamente non mi piace. Se entro il tempo che vorrà, oltre la ventitresima barra, volesse tornare sopra questo massimo a 21.586 dollari e poi inizierà a schiantarsi, ecco, questo sarebbe un pattern più interessante, soprattutto se iniziasse a farlo, come detto, quando? Dopo però una certa durata, ovvero dopo 24 più 24, almeno 48 barra, ovvero andiamo a vedere quanto come tempo, perché come vedete non esprimo opinioni, sistema, metodo, statistico, matematico, non si scenderà se Tesla compra, se l'Afghanistan mettono la pena di pace o qualsiasi altra cazzabumbola, così si chiamano mediamente. Qui si parla di tempi, tempi precisi, che si possono eventualmente accorciare di poco quando ci sono forti tendenze, è tutto nelle regole, bisogna però saperle. A questo proposito, ribadisco, se quindi dopo le 3.15, dalle 3.15 in avanti, si volesse andare in violazione di questo minimo, dove ho messo un bellissimo allarme, noi correremmo il rischio finalmente di vedere una discesa dopo l'eccesso di salita che abbiamo avuto e che è stato previsto. Basta guardare i video precedenti, come vi consueto. L'altra cosa che ricordo di nuovo, perché, mamma mia, tanta gente iscrive ormai e inizio ad avere poca pazienza con chi non rispetta le regole, siete a casa mia. Questo è il mio canale, si chiama Circolo Virtuoso. Questo è il proprietario, ok? Il proprietario vi ricorda che questo canale è riservato a trader pro che conoscono almeno la ciclica base o a chi voglia con umiltà imparare da zero questa analisi. Gli altri rischiano solo di non capire niente di quello che verrà detto nei video. Zero, nulla, nada. non saranno tollerate polemiche o critiche non costruttive che non riguardano il trading, soprattutto che riguardano me, una persona che non conoscete. Anche perché, se incontraste persone che mi conoscono, vi direbbero che è tutt'altro quello che dovreste pensare di me. Se mi giudicate dal fatto che ho un tono particolare, che ho la R moscia, che devo andare di fretta nei video perché sennò potrei fare video di tre ore a parlare soltanto di un grafico, eccetera, eccetera. Se non conoscete le cose, lasciate perdere, ok? I commenti di chi vuol far perdere tempo verranno cancellati. Vanno, basta, non ho più voglia di perdere tempo. Ok? Quindi, o si seguono le regole del mio canale YouTube, del canale di chi vuole creare un circolo virtuoso e come vedete lo abbiamo fatto negli scorsi giorni grazie alle persone che hanno dato una mano a me perché sono formate per potermi dare una mano e quindi più vediamo le cose insieme e meno sbagliamo e più trade giusti facciamo e più tutto funziona. Se invece non vi interessa e volete fare altro, questo non è il canale corretto. Se volete dare opinioni, lo ripeto ancora perché continuo a vedere opinioni dappertutto, non ci interessano. Fatele dove volete voi. Vi create il vostro canale, lo chiamate Opinion Time, e riempite intere pagine di opinioni senza alcuna tipo di autorevolezza e vedrete che continuerete oltretutto a sbagliare continuamente i trade in continuazione ad arrivare tardi eccetera eccetera, movimenti già fatti, mentre invece questo movimento era ampiamente stato previsto nei video precedenti. Mi auguravo che si fermasse qui, invece sono andati in eccesso. la previsione era di arrivare in eccesso anche sopra, ma sono andati ancora un po' più su. Finito questo, come detto, noi interessa il colore della candela di oggi. No, non ci interessa assolutamente perché siamo a 11 e ritorniamo a questo esasperante colore, non colore, sta diventando una telenovela fare trading da inizio anno e non amo le telenovela, preferisco i film che abbiano una solida trama. Arrivati qui a 11 noi abbiamo ampiamente ormai tutte le condizioni per iniziare una seria discesa e come detto però si potrà tornare qui sotto se questo sarà il terzo di più 2 o qua partirà il terzo di più 2 perché l'altra alternativa è qua. Se qua da questo dove c'è scritto terzo T partirà un altro sarà partito un altro mensile che vorrà chiudere questo annuale che è andato oltre il tempo minimo torneremo qui sotto se non ci vorrà più tempo come detto in precedenza. Per cui che cosa facciamo? Attendiamo il tempo di inverso attendiamo soprattutto quello che mi interessa di più nella realtà dei fatti è che non si vada sotto questo massimo fino al tempo che ci siamo detti a superare le 48 barre dopo le 48 barre se ha voglia di scendere ce lo dirà se non ha voglia di scendere ricordiamoci che siamo a 34 barre su massimo 43 e quindi potremmo già essere su un settimanale vincolato settimanale inverso vincolato rialzo e potremmo avere ancora 3 giorni di rialzo ma c'è uno swing che ci dia conferma? Assolutamente no quindi siamo in una situazione complessa in cui non abbiamo come in altre volte la possibilità di dire adesso ci muoviamo in questo modo? Eh sì siamo in attesa da quando è iniziato a lateralizzare di nuovo attendiamo se volete perdere soldi tirate la moneta e vedete se iniziare uno short ma non ci sono le premesse perché il metodo matematico vi richiede due cose lo swing è stato violato manca il tempo qui solo per il tempo puro abbiamo la chiusura del settimanale iniziato qui per la ciclica non c'è questa chiusura per questo motivo mi raccomando aspettate una conferma corretta sia da un swing che da un vincolo che da volumi non anticipate i movimenti se no rischiate di continuare a trovarvi bitcoin che sale e che va contro da questo minimo può essere partito ovviamente il secondo T-3 ok allora analisi fatta sono le 22.51 avrei anche un'oretta per continuare a vedere il mio film ringrazio per il vostro tempo se il video vi è piaciuto mettete un bel like perché è sempre una pacca sulla spalla per una persona che lavora dalle 8 alle 24 orientativamente tutti i giorni con pause per il pranzo pause per non morire inchiodato una sedia e la maggior parte delle analisi le fa gratuite e poi approfondisce nel gruppo premium buona serata a tutti arrivederci